Milano con la partecipazione al grande fratello VIP, Cecilia Rodriguez ha aumentato notevolmente la sua popolarit. Cosa che con il suo naufragio sull'isola dei famosi non era riuscita. L'addio a Francesco Monti in diretta TV per il coinquilino Ignazio Moser. Con cui ora fidanzata, LH ha messa la centro del reality mediaset fra polemiche e colpi di scena. Feliz cumpla la tia loquita ms linda del mondo. Cancelletto la mas linda del mondo. Cancelletto quando se a grande qui roseruna ti accomove oscancelletto felid cumpla un post condiviso da Cecilia Rodriguez. Chiocciola che cu Rodriguez trattino basso real. In data, DIC 16, 2017 et 6, 56 PST contestualmente la popolarit della sorella maggiore. Belen, era in discesa e secondo diva e donna fra le due sarebbe nata una piccola guerra a colpi di marketing. Proprio mentre la popolarit dall'Argentina pi chiacchierata d'Italia ai minimi storici spiega la rivista La Sorellina le ruba la scena. Olita Chiocciola Svarovski Cancelletto Advertisingam Post condiviso da Belmo Rodriguez. Chiocciola Belen Rodriguez Ril. In data, DIC 12, 2017 et 11, 37 PST Cecilia Rodriguez. Silvia Toffanine Belen Rodriguez ma Belen. Grazie agli insegnamenti del suo grande amore Fabrizio Corona. Sa come restare sulla cresta dell'onda ed ecco che torna sulla bocca di tutti con Valzer di presunte crisi e riconciliazioni col motociclista Adria Iannone. Mentre l'ex marito Stefano De Martino non esce mai dalla sua vita. Sembra proprio che le Rodriguez si stiano contendendo i riflettori tra colpi di scena e scelte di marketing. Una squadra fortissima. Chiocciola Tusico e Vale Strattino Basso Itun Post condiviso da Belmo Rodriguez. Chiocciola Belen Rodriguez Ril. In data, DIC 11, 2017 et 4, 28 PST A LTR O su MSN. Moser Cecilia. Primi baci fuori dal grande fratello VIP. Gazzetta TV. Sponsorizzato. Maggiore maggiore sconto Flash. Surface Laptop 5 in offerta per poche ore a soli 993 invece di 1. 169. Approfittane.